Siamo al metro 80 ma non c'è lo chef. Mirko, dove sei finito? Sono qui, sono qui, stavo chiudendo i cappellacci. Eccomi, scusate. Stavo giudendo i cappellacci. Sai, noi facciamo tutta la pasta fresca, quindi è un continuo giornalmente che facciamo, impastiamo. Eccoci qua. E a proposito di pasta fresca, torna l'appuntamento mensile. Con cosa ci dilestirai questo mese? Allora, questo evento abbiamo pensato al re della tradizione lombarda. Faremo il risotto con l'osso buco. È un piatto tipico che non tutti i giorni viene cucinato a casa perché è una cottura molto lunga. Seguiamo la tradizione della mia nonna che è milanese, anche se poi noi siamo andati a abitare al mare, però la mia nonna è milanese e quindi voglio proporre questa sua ricetta. Beh, da Milano al mare e dal mare a Milano, un ritorno e quindi un riproporre le tradizioni. Un ritorno alle origini, esattamente. Non resta che venire al Metto Ottanta e assaggiare il tuo risotto con l'osso buco. Mercoledì 27 febbraio dalle 19.45, vi aspetto. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao. Ciao.